domanda che cosa mi fa avere disgusto per la vivisezione non è solo quello che dice certa scienza per cui la vivisezione inutile ma è il tuo rispetto crescente per le forme di vita inferiori all'umana ma perché ho questo rispetto perché senti che tu provieni da quelle forme di vita e il loro dolore ti dà sofferenza ma perché mi dà sofferenza perché l'evoluzione che hai raggiunto ti permette di intuire che gli animali sono i tuoi fratelli minori no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.